ciao a tutti siamo giunti al dunque oggi vi farò vedere i risultati produttivi che abbiamo ottenuto con la siepe il sistema di allevamento messo a punto dal professor cesare intrieri dell'università di bologna come avete già avuto modo di vedere in altri miei video la siepe è un sistema di allevamento integralmente meccanizzabile che può essere gestito con meno di 18 20 ore per ettaro per anno ci troviamo in un vigneto alla quarta foglia nel quale stiamo continuando la sperimentazione grazie alla collaborazione col professor intrieri abbiamo a che fare con tre vitigni merlot merlese e trebbiano romagnolo dei quali abbiamo defogliato alcune piante in modo da farvi vedere la produzione questo è il merlot come potete vedere i grappoli sono numerosi ben colorati ben distribuiti e non interessati da scottature qui abbiamo a che fare con il merlese l'incrocio ottenuto dal professor intrieri tra merlot e sangiovese come potete vedere i risultati sono soddisfacenti ed infine ecco il trebbiano romagnolo con grappoli numerosi ben conformati e soprattutto sanissimi nel ricordarvi che la meccanizzazione è un'opportunità e non un obbligo vi esorto ad evitare improvvisazioni detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti